Mi sa che non mi crederete, ma io sono finito a Busan! Non potevo certo evitare di andare a Busan, visto che ero in Corea del Sud. Quindi, come arrivarci? Prima però, recuperate i precedenti video su Seoul e la zona demilitarizzata, tra le due Coree, mettete un bel mi piace ed iscrivetevi al canale. Così che l'algoritmo sia soddisfatto. Il mezzo di trasporto da me scelto per andare in quella ridente cittadona della Corea del Sud è il mitico train Tu Busan, noto al mondo dei cinefili come il treno degli zombie. Sono dentro la stazione KTX, cioè quella dei treni ad alta velocità qui a Seoul, e la prima cosa che si nota è che, come da noi, non devi assolutamente beggiare nulla o avere già il biglietto per poter entrare qui sulle banchine. Cosa molto diversa dal Giappone o anche solo dall'Indonesia. Come sempre io voglio fare le foto ai treni e via dicendo, cosa succede qua in Corea? Che questo maledetto spione, come mi aspettavo fra l'altro, appena mi sono avvicinato oltre al treno per andare a fargli la foto in testa, ha iniziato a dire allarme, allarme, attenzione, zona vietata, non ci si può andare. Vabbè, anche questa l'ho fatta, però, insomma, veramente... Due parole sui viaggi in treno nella Corea del Sud vanno però spese. Intanto ho comperato tutto da casa tramite la Compagnia Nazionale dei Treni ad Alta Velocità, la Coreail, il cui sito è letscoreail.com. Lì si può tranquillamente pagare con carta di credito ed è presente pure un pass per avere i viaggi limitati fino a 5 giorni, ma obbligatoria comunque la prenotazione delle singole tratte. Personalmente lo sconsiglio, perché se si organizza bene il viaggio e i treni sono così economici che non ne vale la pena. Come invece valeva in Giappone. La vendita dei biglietti apre un mese prima della data che vi interessa, e prima li prendete ovviamente meglio è. Sappiate che io per andata e ritorno da Busan e poi anche per Gyeongju, che vedrete nei prossimi video, ho speso in tutto una cosa come 90 euro e ricordatevi che a Busan sono 3 ore di viaggio. La qualità è Alstom, praticamente sono degli Italo leggermente meno potenti, ma si sa comunque molto comodi e sconsiglio però di portarsi bagagli ingombranti. Viaggiate leggeri quindi, visto che sono stato polisso, catapultiamoci direttamente nella stanza d'albergo. Hotel a Busan, 45 euro a notte, ben quasi 15 meno rispetto a quello di Seoul, e cambia totalmente l'aspetto. Allora, sicuramente ha visto dei giorni migliori, perché via dicendo, però insomma un bel tv, bella stanza, grande, ampia, anche il bagno. Adesso ve lo faccio vedere, intanto che mi infilo le ciabattine per evitare di morire. Qua dietro di me cosa c'è? C'è il water, guardate con il lavello, ci sono anche tutti i prodotti da bagno e una doccia, una doccia veramente ampia. Guardate, con tutto disponibile c'è anche l'accappatoio, insomma, per 45 euro. Che volete di più? Mentre sto andando al primo villaggio culturale, adesso ho l'autobus, la fermata qui davanti, mi è sovvenuta una cosa particolare dei treni KTX, quelli ad alta velocità. Io sono salito, come vi ho detto, senza nessun tornello a controllare nulla, mi sono seduto, sono arrivato e nessuno, nessuno ha controllato il mio biglietto. Pensate bene quale possa essere la mia sensazione adesso, essendo l'unico turista straniero, addirittura qui sull'autobus in una zona prettamente residenziale di Busan, che sta andando a un villaggio culturale. È stranissimo, ve lo dico. L'unica cosa è che sto vedendo che Busan si sta cercando di rilanciare, perché non è una zona molto turistica, come ho detto, perché nel 2030 ospiterà un'expo internazionale. 2025 sarà a Osaka. La prima tappa scelta a Busan è Hochon, un villaggio culturale che, come potete vedere, è incastonato tra le colline, dove si arrampica per bene. Questi villaggi culturali sono in via di riqualificazione, poiché originariamente erano dei quartieri poveri, con case fatte in lamiera, e se state pensando a baraccopoli, ecco sì, lo erano. Se ne riconoscono benissimo i tratti nell'assenza urbanistica e struttura delle abitazioni. Ho deciso che non scendo, anche perché, se guardate bene quel palazzone là, quello scuro, è dove c'è l'autobus, quindi io se vado giù devo risalire fino a lì. E non hanno, anzi la stanno montando adesso, la scala mobile per scendere, anzi è meglio se mi tolgo da qua. Niente, è successo anche questo, salgo sull'autobus e questo si ferma. Probabilmente un problema alla pompa del gasolio, da quello che ho potuto capire, però sì, non arriva proprio il gasolio durante l'accensione, quindi... Certo però, che se prima di fare i video io pensassi anche a cosa dico, sarebbe meglio. Infatti, come potete vedere, si trattava di un autobus alimentato a CNG, che sarebbe metano coppresso, quindi probabilmente l'elettrovalvola riduttrice di pressione ha avuto qualche problema tagliando l'alimentazione. Ma per fortuna che non lo faccio di lavoro, ecco. Quella alle mie spalle che state guardando è una meglio via di Busan, nel senso che qua ci girano tanti soldi. Come potete vedere da questo cartellone qui c'è scritto Chirurgia Plastica, infatti vengono tutti qua in questa via, che ve la faccio vedere un attimo, dove ci sono tutte le cliniche per farvi operare. Ebbene, mi avete scoperto, sono venuto qui anch'io per rifarmi tutto! Dopo essermi rifatto quindi naso, capelli e panciotta, sì, mi sto un po' inciccendo, sono passato al Xiaomi Yan Market, in un momento della giornata in cui dire che non fosse troppo frequentato è poco. Ho potuto notare però la quantità spaventosa di roba ammassata a caso, una differente attenzione da parte dell'aslo locale e la moltitudine di odori e cibi che ti avvolgono completamente. Grazie a tutti! E voi veramente pensate che io non mi sia fermato a mangiare in un posto del genere? Mi sa che ancora non mi conoscete abbastanza bene. Ebbene, difatti, non ho la più palida idea di cosa io abbia ordinato e quindi mangiato, ma guardate qui come sfrigola tutto, come il pesce è ben cotto, come il kimchi si infili ovunque, come il brodino fosse ad una temperatura solare, come io ci abbia messo minuti interi per poter pulire il pesce anche se sono abbastanza schillato con le bacchette. Il risultato però è stato un buon pasto senza né arte né parte, quindi un peccato. Non è ancora sera, ma sono nella via dei giovani, si chiama proprio così Young Street, e ci sono tutti dei negozi, apparentemente appunto per giovani, con questi negozi di shopping alla fine. Quindi nulla di chissà cosa, anche le musiche sono già a tutto volume, questo mega magazzino di più piani, quindi via dicendo. Qua ci si trova praticamente tutte le cose di moda attualmente in Corea, di cui io non sto capendo assolutamente nulla, perché è ovvio, sono anche vecchio. Dopo la strada dei giovani c'è quella delle caffetterie. Young Poe e Cafe Street sono praticamente il proseguimento l'uno dell'altra. E il motivo è semplice, quell'area di Young Poe prima era piena di negoziati di materiale elettrico, elettronico e parti di ricambio, che verso la fine degli anni dieci hanno iniziato a chiudere. Pochi anni dopo, gruppi di giovani hanno iniziato ad aprirci dei piccoli barrettini, sfruttando il crollo dei prezzi rispetto alla limitrofa strada dei giovani, e questo ha fatto sì che in breve periodo ne nascessero decine, e che ora la densità di caffetterie o ristoranti più curati sia elevatissima. Momento lavandaia che è in me. Sì, farò la lavanderia, o meglio, non andrò in una lavanderia a gettoni, non chiederò all'hotel di lavarmela loro, visti i prezzi incredibilmente elevati, ma cosa farò? La farò io. Vi faccio vedere il mio kit, quello che utilizzo di solito da viaggio. Allora, abbiamo un po' di sapone liquido da utilizzare, due saponi da buttare in lavatrice, l'uno fa dai 3,5 kg ai 5 kg di roba, quindi insomma ne hai fin troppo, e questo è uno smarchiatore liquido. Liberiamo il tavolo e prendiamo appunto questa bellissima sacca. Allora, è una sacca, vi faccio vedere dentro com'è fatta anche. Ok, la luce forse non è bellissima, ma intanto è molto semplice da usare, perché qui ti dà già il livello dell'acqua a seconda di quello che tu metti dentro. Io metterò dentro una via intermedia di queste cose, e poi ti spiega semplicemente come usarlo. Guardate, c'è proprio il sapone, chiudi, metti giù, svuoti tramite la valvolina dall'aria, e inizi a massaggiare dai 30 secondi a 3 minuti almeno. Poi a questo punto svuoti dall'acqua sporca, gli metti l'acqua pulita, e poi asciughi, lasci ad asciugare. Poi la si stende in giro tramite le grucce che sono all'interno delle stanze, e si aspetta che, grazie anche all'aria condizionata, il giorno dopo, essendo tutta roba più o meno sintetica, sia già asciutta. Io volevo andare a mangiare in due di questi locali qui, per l'esattezza questo e quest'altro qua, uno dei due, perché fanno carne di maiale dentro al brodino, e tutte quelle cose lì. Sembravano molto interessanti, tra l'altro anche datati di vecchiaia, diciamo così. A parte tenere il maiale dentro dei pentoloni di plastica fuori, dentro dell'acqua a macerare, non so cosa stia facendo, per poi bollirlo, vabbè, come diceva mia nonna, cotto crudo al fuga la veste. Ci sarei ancora andato, è quando ho visto i topi girare in mezzo lì, e allora ho detto, no, evito, almeno questa sera evito. E quindi dove me ne andrò? In questo posticino un po' più fighetto, semplicemente... sì. eccomi qui che faccio due passi attorno al mio hotel, è molto vicino alla stazione di Busan, l'ho preso perché mi dovrò muovere in treno abbastanza presto la mattina, e quindi ero comodo. dietro di me ci sono tutte queste viuzze molto belle, in alcune ho mangiato un po' più in là. La cosa interessante è che a un certo punto, passando in una di queste vie, il mio cosiddetto senso di ragno si è un attimo svegliato e mi ha detto stai attento. dopo due minuti mi sento dire Hi, welcome! Come here! Hi, welcome! Ok, immaginatevi che angolo di mondo ho trovato, proprio qui dietro la stazione. Che strano, eh? Questa mattina sono venuto a fare colazione in un 7-Eleven, lo so che non si fa, però ce l'ho direttamente dietro l'hotel e la fermata dell'autobus che devo prendere questa mattina è a 20 metri qui, è inutile che vado da un'altra parte dove c'è roba, tra virgolette, più sana da mangiare. Allora, cosa ho preso? Intanto ho preso questa qui, che è un fagottino con della marmellata di qualcosa, non ho ben capito, secondo me... Fragole, sì, fragole, esatto. Poi ci sono le zanzare qua che imperversano. Questa qui, invece, è una gelatina di frutta fresca, almeno così mangio un po' di frutta, e poi un caffè in lattina, top! C'era top, lo dovevo prendere, ecco. Sono arrivato al Gamacheon Cultural Village, che lo vedete alle mie spalle, è veramente bello e colorato. Fra l'altro, venendoci la mattina, si ha la luce migliore qua in mezzo alla vallata. Quindi, insomma, godetevelo un attimo! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ovviamente sono riusciti a rendere turistica questa zona, rivalorizzandola, vedete anche tutti questi negozietti, shop, caffetterie, in modo da renderla più attraente al turista, che rimane affascinato anche dall'arte moderna, i graffiti. Girando nel mezzo delle strette viuzzi di Gamacheon, ho potuto godere di tranquillità e viste molto interessanti, ritornando però sulla via principale, il numero di turisti è cresciuto esponenzialmente, e fra l'altro nei centri informativi, vi consigliano di prendere solo le vie principali, per godere al meglio della zona. Come avete già notato, li ho proprio ascoltati, come se fosse oro colato. La via principale, infatti, snatura totalmente il luogo suggestivo, e dichiaro un richiamo povero e modesto, mettendo in mostra le peggio pacottiglie e attirando il chiasso dei turisti. Mi raccomando, quindi, se vi avventurate nelle viuzze, poco casino, perché la gente ci vive ancora. Rispetto prima di tutto. E mentre alle mie spalle vedete il villaggio culturale Gamacheon, dove ero fino a poco tempo fa, adesso sono ben all'ultimo piano del centro commerciale Lotte, uno dei più grandi che abbia probabilmente mai visto, ed è esattamente sulla Baia, quindi offre una vista bellissima. Sì, sono da solo, fra l'altro, qua sotto il sole, coccente, però meglio così, me la godo tutto, mi faccio le mie riprese come meglio credo. Qua sotto c'è anche l'area a sgambamento cani. E cosa c'è anche qua? Perché mi sono fatto prendere dallo shopping, già che ero qui, ho detto, però facciamo anche un po' di shopping. Il tutto per risparmiare qualche won, visto che fino a domani, tra l'altro c'è lo sconto per il quarantesimo anniversario, quindi insomma mi sono detto e spendiamoli un po' di sti soldi, no? Sono entrato al mercato del pesce qui a Busan, pieno, pieno di pesci di qualsiasi tipo, ancora vivi come è usanza asiatica, quindi li tengono ancora vivi, belli freschi, con l'acqua corrente, insomma è molto bello da vedere, un po' meno forse per i pesci, però sì, qui hai delle scelte che, cioè roba veramente freschissima, mamma mia, dei ricci di mare qui esposti, veramente, veramente tutto bellissimo, guardate. Chiaramente subito all'esterno del mercato del pesce è pieno di ristorantini che prendono quel pesce freschissimo e per una spesa non proprio bassa ti preparano le meglio cose. Ovviamente io non potevo esimermi dal provare qualcosa, anche vista l'ora di pranzo, quindi ho deciso, anche se il focus della camera si è impallato nuovamente, di mangiarmi qualche bel tentacolo che ancora si contorce. Lo vedete, è finito in tragedia, allora mangerò appunto il polipo ancora che si muove, vedete che si contorce, allora, questo è da mangiare molto attentamente, perché lo dovete mandare giù quando non si muove più, lo dovete masticare benissimo, perché altrimenti rischia di infilarsi in gola e è un casino, quindi occhio, io ci terrò molto attento e ora vediamo, adesso provo il primo. Non sa da moltissimo, però è buono, cioè, non è piccante almeno. Mi sono venuto incontro e mi hanno scaldato il polipetto che adesso me lo mangio bello caldo e fumante. Comunque devo dire, i polipetti tra l'altro non si sentono in bocca agitarsi, al massimo c'è la loro ventosa che ogni tanto si attacca alle tue guance ma si toglie rapidamente. Praticamente a pochi metri dal mercato del pesce perché siamo in riva al mare c'è Beef Street che è una di quelle strade con i mercatini e ovviamente tutta la carne possibile e immaginabile tramite questi chioschetti che come vedete di street food e io adesso ho appena mangiato però cosa devo fare? Cioè ditemelo voi, ditemelo voi! E niente, sto capendo a mie spese oramai che in questo paese non c'è pace per la mia anima quindi ho preso da mangiare questo panino un hotteoc dovrebbe essere con il miele lo zucchero dentro e anche le noccioline adesso non so se si vedono bene ma ci sono anche le noccioline quindi proprio dolce dei campioni ecco buono davvero come avete visto a Busan non c'è stata pace per le mie budella ma ricordatevi che lo faccio solo per voi voi non perché sono un maledetto ingordo ma fortunatamente sono riuscito a sfuggire al mio destino lasciandomi dietro tutto quel cibo ed entrando in due mercati limitrofi quello che state vedendo è il Jukje che è in parte all'aperto e forse più datato mentre subito a fianco si arriva al Bupiong che risulta più moderno è pieno di altrettanti negozi camminando per queste strade rivedendo spesso gli stessi prodotti sia per cibo che vestiario o per la casa non ho potuto che domandarmi come facciano a stare tutti aperti probabilmente prezzi molto simili e alcune cose particolari riescono ad attirare quel pubblico alla ricerca della particolarità ma anche la massa che trovando coda passa magari al negozietto successivo almeno un po' me la vedo così io ho scalato questo monticello questa collinetta dove dietro c'è la torre di Busan da cui probabilmente si gode di un'ottima vista ma avendo già usufruito gratuitamente di quella del lotte mall qui davanti ai miei occhi diciamo che è bastata una passeggiata qui per vedere quello che c'è dopo essermi visto la candelona di Busan il mio piano era spostarmi allo Yurkdo Park per vedere un vero panorama sul mare e magari pure un pezzetto di Giappone visto che l'autobus ha impiegato un'oretta per farmi arrivare vorrei soffermarmi su alcune cose che mi hanno colpito nello spostamento il primo sono i sottopassaggi stradali o ingressi della metro nelle strade principali che fungono anche da rifugio come potete vedere sono letteralmente immensi e hanno una varietà di negozi aperti che da noi sarebbe impensabile possano rimanere aperti il secondo punto è la presenza di numerosissime massi abitativi grattacieli nuovissimi da 20 o 30 o più piani a cui poco dopo fanno seguito aree con case bassissime dismesse o non curate abbastanza che probabilmente risalgono agli anni 90 primi 2000 la differenza più evidente è poi quando le stesse abitazioni più datate sono ai piedi dei palazzoni come fa un paese con un livello di natalità peggiore sia del nostro che addirittura di quello giapponese a pensare che i grattacieli siano il futuro nella loro società scusatemi ma io da europeo qui proprio non capisco alle mie spalle c'è l'oructo skywalk che è praticamente una pensilina con i vetri sotto dove si può tranquillamente vedere le onde e il mare e via dicendo io sono nel punto più a sud della corea e di busan penso quindi più a sud di questo punto non c'è nulla mi aspettavo tutto ma non mi aspettavo minimamente di vedere questo panorama cioè guardate che grattacieli direttamente sulla spiaggia questo qui invece è un bellissimo percorso naturalistico in mezzo alle montagne che oggi però non riuscirò a fare vedo magari nei prossimi giorni questi non me li aspettavo assolutamente questi palazzoni qui guardate sono di un impattante clamoroso ma allo stesso tempo ci stanno anche bene non so cosa dire sembra strano però non ci stanno così male non voglio neanche pensare agli affitti quanto possano costare avere casa qui ecco qui dove ero stamattina dove vi ho dal porto di Busan e qui davanti a me adesso vi faccio vedere il Giappone voi non lo vedete io lo sto intravedendo in questo momento è proprio lì qualche centinaio di chilometri davanti a me però avevo già messo via il microfono perché ha detto vabbè faccio le ultime panoramiche le cose così tanto questo posto non è che abbia chissà che cosa ancora da dover filmare con la mia voce ebbene invece c'è ed è questo perché finito il tuo trekking in mezzo a questa vegetazione neanche tanto fitta diciamo perché ci sono i pietrini c'è al massimo un po' di terriccio c'è l'aspirapolvere lo vedete ed è gratis c'è l'aspirapolvere ed è gratis anche questa sera ho avuto il brutto vizio di venire a cena non so come mai capita sempre più spesso che abbia voglia di mangiare quindi adesso vi faccio vedere cosa ho preso allora guardate questo questo è maiale poi guardate come sta già facendo tutti i noodles lì guarda cioè proprio questa è roba piccante comunque questa piccante questa qui le patate poi abbiamo anche il riso e io sono qui al secondo piano di una via commerciale quest'oggi ho un po' più di tempo e allora sono andato qua al Victoria che è una pasticceria diciamo francese ma c'è poco di francese dentro ho preso questo qui che come vedete è praticamente una specie di brioche con il cocco e dovrebbe esserci anche della crema mentre questo qui è tipo un biscottone con dentro la crema anche qua quindi insomma ho un bel po' di fame eccolo vediamo un po' vediamo se funziona è buono mentre mentre sto andando al tempio e mangiando l'ultimo pasticcino che mi ero preso alle mie spalle avete appena visto un parco giochi della lotte con annesso vicino centro commerciale outlet c'è praticamente di tutto ma non c'è solo quello c'è anche l'IKEA quindi io perché sto andando al tempio ditemelo voi ditemelo per arrivare fino a questo tempio dalla stazione KTX di Busan vicino a dove dormo ci vuole quasi un'ora e mezza e vabbè qui c'è tutto il mercatino di robe da comprare devo ancora entrare dentro al tempio però mi sono già preso da bere qualcosa perché la giornata è calda e sì prevedo che è meglio iniziare a bere ecco ma adesso è il momento di visitare il tempio più bello di tutta Busan e forse di tutta la Corea del Sud parlo del tempio Haedong Yungu Ksa si tratta di un tempio molto antico più di 600 anni che quindi attira ovviamente una maria in forme di turisti tanto che in più punti dove si passa solo in fila indiana si rimane letteralmente fermi in coda per diversi minuti e sotto il sole tutti ammassati non è che sia proprio il massimo una grande particolarità che forse è anche la più incredibile è la disposizione delle strutture che ricalca la sagoma di un drago in stile orientale tutto contorto nella scogliera complimenti a quel monaco che l'ha intravista secoli addietro e modellato l'area per farla risaltare in stile orientale per la scogliera per la scogliera per la scogliera per la scogliera con la scogliera per la scogliera tempio buddista che vado nuovi amici che trovo è fantastico dopo il bellissimo tempio per riprendermi dalla ressa di persone ho deciso di abbandonarmi ad una lunghissima passeggiata in area rurale dietro al tempio stesso e che poi diventa costiera il mio intento era di raggiungere il dong bike park passando per il song jil jong e la relativa spiaggia saltando con un autobus fino alla strada dal mal gil godermi la vista dell'immenso x the sky arrivando quindi alla bellissima spiaggia di hae 2 e non già avrò preso niente come nomi a Grazie a tutti. Visto che è comunque caldo e vedete spuntare una cannuccia mi sono preso un bubble tea. Grazie a tutti. Una delle grandi cose che non capisco della Corea è questo abuso dei grattacieli, cioè proprio buttati lì a caso. Io sono appena sceso, me lo sono trovato davanti, vi faccio vedere questo mega palazzo davanti proprio alla spiaggia, cioè è incredibile, guardate quanto è alto e lì giù c'è la spiaggia. Tutto il pezzo di costa che io ho saltato e ho fatto da sopra può essere tranquillamente percorso con questa ferrovia oppure con questa ovovia che c'è qua sopra. Ecco, diciamo, io me la sono evitata per fare un po' i giri che paiono a me e soprattutto vedere la strada della Luna che era quella che vi ho fatto vedere prima con quella bellissima vista. Questo complesso XZ Sky è veramente grandissimo e praticamente anche sulla riva del mare. Salire sopra, a parte il dover prenotare, costa una ventina d'euro che avrei anche speso volentieri se non fossi che la giornata aveva una bella foschia che avrebbe inficiato la vista. Quindi come compensare la mancanza di un suggestivo panorama, ma fermandomi a mangiare ovviamente. Grazie a tutti. Contro ogni previsione aspettativa con alle mie spalle questi giganteschi palazzoni direi che anche per oggi siamo arrivati alla fine di questo bellissimo giro. Un po' di natura, un po' di tecnologia da tutte e due le parti, un po' di spiagge e insomma, bello, bello. Mi è piaciuta Busan, bella. Scusatemi, ma davvero pensavate che potessi chiudere così un video su Busan prima di tutto? Mi sa che non avete ancora messo un bel mi piace. E poi non avete ancora, non vi siete ancora iscritti al canale, per buona pace dell'algoritmo fra l'altro. Secondo, non avevo ancora cenato e per chi mi prendete? Per uno a dieta e con una videocamera a cui si impalla la messa a fuoco? Non fatemi parlare che è meglio al prossimo video dedicato a Jeonju. Ciao! Grazie a tutti!